Buon pranzo capoccio rossonere, buon pranzo a tutti, mi scuso già da ora per il video di ieri sera, un video fatto di getto, un video dove praticamente ho detto tutto quello che mi passava per la testa. Oggi cerchiamo di ricostruire il tutto in maniera un po' più calma e pacifica ragionando su quello che sarà il nostro futuro. Prima però di cominciare questo importante video vi prego datevi il vostro sostegno perché veramente un'altra estate così nei tifosi milanisti non ce la meritavamo assolutamente. Like al video, commentate, condividetelo con gli amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, correte e iscrivetevi al canale di Dovebetti e Ossipiosef con cui condivido l'angolo rosso-nero ogni mercoledì alle ore 17.30. E niente ragazzi, adesso facciamo un bel respiro per non inveire e parliamo di quello che è successo. Allora, così chiariamo una volta per tutte, quelle di ieri non sono state dimissioni di Paolo Maldini come ho detto nel video di ieri. Maldini è stato licenziato, Maldini è stato ricevuto in hotel da Cardinale, in questo bar, l'incontro, alcuni dicono sia durato due ore, altri un quarto d'ora. Comunque sia, morale della favola. Cardinale ha licenziato Maldini perché sostanzialmente non soddisfatto di come sono stati spesi i soldi l'estate scorsa e di come appunto sia andata in un certo senso la stagione da un punto di vista comunicativo, con dichiarazioni minatorie più volte da parte di Maldini, eccetera, eccetera, eccetera. Giustamente voi vi state chiedendo, ho capito, vengono licenziati Maldini e Massara ma perché rimane Pioli? Ora partiamo tutto con ordine. A Maldini cos'è che viene contestato? Come ho detto prima, a parte la gestione comunicativa, ci sono state più volte dichiarazioni, a volte che andavano contro l'allenatore, come quando ha detto prima della partita col Tottenham, che lui in maniera molto gentile e garbata, c'erano tanti modi per trovare compattezza in quel periodo difficile, io non comprendo la difesa a tre, l'aveva detto più, e l'avrei optato per l'inserimento di un centrocratista in più. Però non è stata un'intervista a tono minaccioso, è stata un'intervista che sembrava molto pagata nei toni. Un'altra cosa che non è piaciuta alla proprietà da un punto di vista comunicativo è stata l'intervista rilasciata dopo l'eliminazione quando si parlava di Dybala e di degretelare. La proprietà ha detto espressamente a Maldini, tu di voler prendere Dybala a noi non hai mai detto nulla, sei tu chi hai scelto degretelare e adesso devi in qualche modo portare, ammettere le tue colpe. Un'altra cosa che viene imputata a Maldini è stata la mancanza di comunicazione con Moncada, soprattutto Moncada lamentava il fatto di non essere mai ascoltato, i suoi profili non venivano mai presi in qualche modo in considerazione, se non ultimamente con l'acquisto di Ciao, e la società barra cardinale reputa imperdonabile la mancanza di considerazione data a Moncada, soprattutto sui profili di Colomoni, segnalato due anni fa che oggi vale 90 milioni, Enzo Fernandez che il Milan aveva in pugno dopo aver perso Sanchez per 15 milioni non approvato da Maldini e non in ordine temporale Julian Alvarez segnalato in pugno da parte di Moncada non preso e andato al City per 20 milioni di euro. La società che ovviamente fa del player trading, che fa dello scovare talenti e poi rivendergli il suo mantra, ha reputato imperdonabile queste cose. Ora, ma veniamo al noccio della questione. Perché? Stefano Pioli ancora pensando sulla panchina del Milan. I rapporti tra Stefano Pioli e Maldini non sono idillieci come si voleva pensare, perché una delle cose che voleva portare al tavolo di Cardinale Maldini è che comunque la conferma di Stefano Pioli doveva essere atto di valutazione. Cosa è successo? È successo che sostanzialmente abbiamo visto la gestione schizofrenica da parte di Pioli quest'anno della Rosa, soprattutto dei nuovi acquisti. Ciao, l'ho criticato tantissimo Pioli per la messa in campo di Ciao solo quando tutti erano infortunati a gennaio, poi Ciao si è rivelato quello che era. Ho sempre criticato la mancanza di opportunità con continuità data Franks, data Daly, De Ketelar è stato usato, non usato, era partito molto bene nelle prime cinque, poi dopo il primo errore contro l'Inter dove non aveva seguito Brozovic, panchinato e messo solo nel turnover pesante. Avevo criticato tutto questo. Ebbene, Maldini più volte ha avuto durante l'anno discussione con Pioli per quanto riguarda l'utilizzo di quelli che erano i suoi acquisti. Tenete presente, ricordate anche quando Pioli ha messo in campo a sfregio quasi Adlì gli ultimi cinque minuti con lo Spezia che perdeva 2-0, come dire, questo è Adlì, questo è Adlì che volete. Come anche lanciare un messaggio allo stesso Maldini che invocava il perché del mancato utilizzo di Adlì che pure bene si era comportato in tutte le volte che aveva avuto, poverino, l'occasione di mettere i piedi in campo. Non solo questo. Pioli poi ha avuto discussioni con Maldini per quanto riguarda le giuste domande lecite che Maldini faceva a Pioli sul doppio confronto con l'Inter. Perché a quel punto schierarti sempre come fatto in Supercoppa che non ha pagato, come fatto all'andata che non ha pagato? Perché non attuare contro misure? Perché non mettere il centrocampista il più al posto di Brandiaz? Perché non mettere il trequartista muscolare? Perché non farlo? Perché mettere Benassere, poi si infortuna Benassere, mettere il Brandiaz? Significa che non hai un piano tattico e queste sono state tutte cose che Maldini ha chiesto, ha voluto spiegazione da parte di Pioli. E cos'è successo? È successo che Pioli ha, magari si dice, alcuni parlano, raccontato queste cose a Furlani, insomma a Moncata, a Cardinale e Pioli nel corso del tempo si è guadagnato la stima e la fiducia da parte della società. A Maldini imputano il mancato acquisto di alcuni parametri zero che potevano essere presi mentre Maldini non ha voluto prenderli per non pagare commissioni extra ai procuratori eccetera eccetera eccetera. Comunque sia ragazzi, la domanda che sorge più lecita in questi casi è giustamente quando tu licenzi l'area tecnica l'allenatore scelto l'area tecnica va licenziato. Io vi sto spiegando proprio il perché alla fine è rimasto Stefano Pioli e secondo me non è solo questo il motivo. Il motivo è anche obiettivamente il non elevare il gruppo squadra di una figura familiare come Stefano Pioli dopo che è fatto fuori dall'oggi al domani il duo tecnico Maldini e Massara. Parliamoci chiaro ragazzi, Cardinale è il proprietario? Sì. Ha tutto il diritto di reputare fallimentare la campagna acquista e i soldi che sono stati dati in mano a Maldini? Sì. Dal suo punto di vista è l'escito licenziare Maldini? Assolutamente sì. Però il problema è che Cardinale non ha capito che siamo in Italia e qui i tifosi del Milan hanno la voce grossa perché quando tu ti levi, quando tu Cardinale licenzi Maldini che è il tuo garante, il tuo scudo quello che si anche in qualche modo cercava di tenere zitti e muti i tifosi perché il tifoso se tu acquisti se Maldini acquista CDK e non rende il primo anno è dispostissimo ad attendere perché c'è Maldini ma adesso Cardinale si è messo in una posizione scomoda, si è messo in una posizione di non poter sbagliare più nulla perché vedrete i primi acquisti fallimentari di questa nuova campagna acquisti verranno totalmente criticati e questa testimonianza che Maldini l'anno scorso è rimasto solo perché aveva vinto lo scudetto ed era incacciabile perché sarebbe successo il cataclisma a licenziare Maldini dopo che con due spicci ti ha portato lo scudetto io ragazzi sono completamente contro, contro, assolutamente contro il licenziamento di Maldini soprattutto in questi termini perché la squadra e Pioli lo hanno appreso dai giornali porca di quella puttana cioè l'America che è praticamente la società e il leader della comunicazione licenzia Maldini e Massara senza comunicare nulla al gruppo squadra ed è stato palese perché un secondo dopo la notizia ufficiale data insomma dagli organi di stampa Sky, Di Marzio eccetera 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 Raffaeleau pubblica su Twitter l'emoticon di una faccina dubbiosa e ragazzi io ora non voglio sapere se noi andremo a crescere da un punto di vista gestionale perché poi il Milan ne verrà affidato a Moncata Moncata è una persona capacissima di fare il suo mestiere super capace di trovare talenti, di innalzare il tasso tecnico della società non è questo il problema, il problema non è il budget il problema è che Cardinale ha detto io ti ho dato 50-60 milioni tu li hai spesi male quindi via, arrivederci e grazie un po' come succede in America ai broker finanziari finché vai e porti in meta il tuo lavoro, sei il Dio se va male un anno e vieni giudicato per quell'anno arrivederci e grazie ragazzi io non sono totalmente contro cioè io sono contro il licenziamento di Maldini per come è stato fatto assolutamente contro perché innescherà sicuramente dei problemi a livello dello spogliatoio giocatori come Teo Hernandez, Ben Asserchia avevano un rapporto enorme che rimango dal Milan rinnovo dal Milan a solo 4 milioni mi riferisco soprattutto a Teo Hernandez corteggiato da Chelsea, corteggiato dal Paris Saint Germain sicuramente oggi ci penserà ben due volte a rimanere al Milan, però la società verrà affidata a Moncada io personalmente stimo Moncada per il lavoro che ha svolto per i profili che ha portato negli anni al Milan non è sicuramente uno sprovveduto Moncada però ecco critico soprattutto da un punto di vista della gestione della comunicazione tu crei un boomerang tu crei un boomerang crei una bomba hai fatto scoppiare una bomba e orologeria all'interno dello spogliatoio all'interno dell'area comunicativa è enorme è enorme perché ora tu vedrai cosa significa non avere più Maldini in società ragazzi Maldini non è parliamoci chiaro non è un caposaldo io tifo Milan non tifo Maldini è ovvio questo voglio il bene del Milan quindi se il Milan in futuro dovesse andare bene tutti ci dimenticheremo di questa enorme cazzata soprattutto nei modi per come è avvenuto l'esonerare di Maldini perché ripeto tu hai tutti i diritti di esonerare Maldini da proprietario che mette i soldi e che secondo te i soldi non sono stati spesi nella maniera adeguata ma i modi faranno sicuramente la differenza detto questo fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi mi raccomando voglio tanti commenti voglio sapere anche la vostra cosa ne pensate siete d'accordo con l'esonerare di Maldini Cardinale ha fatto bene Cardinale ha fatto male siete d'accordo con la promozione di Moncato nel ruolo di direttore sportivo e più poteri dati anche a Furlani una persona che personalmente ecco da questo punto di vista critico perché non è mai stato un uomo di campo è sempre stato un uomo dell'area commerciale quindi ora vediamo più poteri a Furlani si verificherà quello che è successo ai tempi di Gazzini sui primi anni dove praticamente Gazzini severà tutta la supervisione dell'area sportiva e dell'operato di Maldini e Massara detto questo vi saluto vi ringrazio per essere stati qui con me ragazzi miei e niente non ci resta solo che attendere certo è che un'altra estate di confusione di tira e molla noi non ce la meritavamo non ce la meritavamo mi dispiace grazie grazie grazie